L'ultima manovra sui ristori Covid vale 21 milioni di euro. Un pacchetto di ristori e contributi a fondo perduto che si sommano ai 34 milioni già stanziati con i vecchi bandi già chiusi e a quelli altri 6 milioni annunciati nelle settimane scorse tuttora aperti. Il totale dunque si aggiorna e valgono alla fine oltre 61 milioni di euro i ristori messi in campo dalla regione toscana in un anno per venire in succorso alle attività economiche danneggiate dalla pandemia. Le ultime misure spiegate dal presidente della regione Eugenio Gianni e dall'assessore all'economia Leonardo Marras riguardano le attività commerciali di ristorazione nei centri storici e poi ancora le imprese che operano in supporto all'allestimento di fiere, convegni, i bus turistici e chi lavora nell'organizzazione di matrimoni ed eventi privati. Se il Covid ha generato da parte del presidente della regione le ordinanze per la zona arancione, per la zona rossa e soprattutto nel momento in cui ancora la vaccinazione non aveva i suoi effetti ecco che la regione contemporaneamente si dà da fare perché i ristori possano alleviare quello che è stato per le categorie economiche il patimento e la difficoltà. Ecco quindi che soprattutto per quello che riguarda i centri storici e i comuni che erano in zona rossa abbiamo ricavato 18 milioni e 200 mila euro che potranno con un bando che parte dal 27 di gennaio arriva al 4 di febbraio attivare i ristori. Dovrebbe davvero essere l'ultima sessione di bandi che nel corso del 2021, anche se questi saranno aperti all'inizio del 2022, per un risarcimento, un segnale a chi ha soprattutto nel campo del turismo e di un settore allargato dell'accoglienza ha avuto grandi difficoltà in questi due anni e che proprio in virtù delle difficoltà che incontriamo anche ora continuerà ad averne in un periodo che comunque è segnato da un'incertezza, di conseguenza è quanto mai importante che ci sia anche un intervento di questo genere, l'ultimo perché poi nel corso del 2022 inizierà la nuova programmazione e dovremo necessariamente, indispensabilmente tornare a parlare finalmente di investimenti.